6 pillole sono meglio di 6 caccole considerando che sono molto utili a volte come adesso indispensabili però me le dispensano su farmaci 6 piccole pillole sono meglio di 6 caccole considerando che sono molto piccole a volte come questa irrinunciabili per fare finta di tornare abili 6 pastiglie di diversi colori sapori ed odori considerando anche che non puzzano a volte proprio qui fanno effetto così ma dopo un po mi passa perché c'ho una corassa e dentro persino un cuore che ancora batte alla sua età che lo fa gratis che c***o tuttum 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 grazie